Ciao, sono Annalisa, ho partecipato al Master Scienziati in Azienda perché da farmacista volevo scoprire tutto ciò che c'è dietro un farmaco e quindi ho scelto Eastwood come ponte per arrivare ad un'azienda farmaceutica e mi è servita tanto perché mi ha guidata in tutto. Sono arrivata pronta e quindi meno timorosa di quello che credevo. È un'esperienza che consiglio perché non è importante solo dal punto di vista lavorativo ma dal punto di vista personale perché ti aiuta ad affrontare molte paure e timori. È difficile raccontare in un minuto tre mesi di un'esperienza formativa da me soprattutto che ho iniziato dal nulla perché ero uscito da una laurea scientifica e quindi a livello aziendale io non conoscevo niente, sono riuscito poi in tre mesi a crearmi un quadro, un'idea di come potesse essere il mio futuro all'interno di un'azienda. Mi è stato permesso appunto di vedere tutte le varie sfumature, anche un'idea più chiara anche di cosa avrei potuto fare anch'io nel mio futuro lavorativo. Il sud sicuramente è stata un'esperienza bellissima. Non sono le solite frasi fatte del mi ha cambiato la vita o mi ha migliorato. Sono maturato, sono maturato tantissimo. È un viaggio che dura tre mesi ma anche dopo. Non solo, grazie comunque alle amicizie che uno fa durante il master. Ho trovato delle persone fantastiche che continuo a sentire ancora oggi. dal punto di vista lavorativo ti butta nel mondo con una carica pazzesca e poi ti dà comunque anche le basi naturalmente per andare avanti e per costruire quello che è il tuo futuro. Ed Istud è sicuramente il gradino che ti porta in alto. Per me il master è stata un'opportunità enorme. Ho deciso di iscrivermi al master Istud perché non avevo idea di quali fossero le mie capacità e cosa mi potesse piacere veramente ma volevo buttarmi nel mondo aziendale. Questo master mi ha fatto capire in che cosa sono brava e in che cosa mi voglio buttare. Quindi per me è stato utilissimo e soprattutto è stata un'esperienza a livello personale che porterò con me per sempre. Se dovessi tornare indietro la riterei altre 800 volte. Non sapevo cosa avrei trovato qui. Ovviamente sono partito con le speranze di avere la realizzazione lavorativa, quello che tutti poi ambiscono. Però puoi intraprendere questo percorso oltre a farti capire qual è la soluzione adatta a te, ti fa scoprire tutto quello che serve per arrivare nel luogo in cui vuoi arrivare. Non è solo fatto di competenze tecniche ma anche di delle tematiche che spingono a cercare te stesso, le qualità che hai, la voglia che hai perché poi sono quelle che ti mandano avanti. Voglia, determinazione e capire chi sei. E quindi il Master E-Studio oltre appunto a dare quella che è la realizzazione lavorativa ti dà anche tutto quello che serve per arrivarci.